Uuuuh Era l'ora Nuova attività Esorcismo Lotta fino al pinacolo del rituale Eeeh Diverse Eeeh Rituale difendi Mentre Stirpa il verme Della meggiera regina Aaaaaah Allora vediamo cosa E' il momento I segnalatori brillano più che mai E le linee sono in posizione Le mie tecnidi sono pronte per eseguire il rituale Che separerà Savatun dal suo verme Benché affermi che ci aiuterà nella lotta contro la flotta nera E contro l'entità che la comanda Non possiamo fidarci di lei Hai ottenuto da lei abbastanza informazioni per i miei scopi Farò ciò che devo Ma sappi che Xiguarat non rinuncerà a sua sorella O al verme di sua sorella Senza combattere Faccio nuovamente appello a te Al tuo talento per la violenza Preparati a dovere e raggiungi la città sognante Ci vediamo al tuo arrivo Bene bene Quindi ci prepariamo A L'esorcismo della meggiera Ok dovremmo andare nella città sognante Quindi sarà molto interrogante questa storiella qui Che finalmente me l'ha levata Allora Impostiamocela E vediamo che succede Guarda se i giocatori C'è un matching? Perché sto partendo così Ma non so se c'è un matching Se c'è un matching Avvia Ok Bene Questa è una classica roba normale Niente 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 Bravo Non scrivere più Non parlare più Sì 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 Entro Spacco Esco Ciao Salmo Cheat best Best citazione Bravo Mi piaci Sì No 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 Via 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 Porca tronzica Che cacciara che è sta roba Però ci sta che è pieno di mob Resistente Carino Il fattore adesso che stiamo facendo Questo step qua Che è come quello del pozzo cieco Che c'è da fare Nella città sognante normale Permesso Grazie Voilà Scomparuti Ora è tutto pronto Raduniamoci nel mio pinnacolo Per il rituale Orca Tronze Dopo millenni di insaziabile Distruzione Ora sono inermi Contro la mia vendetta Sì vabbè È l'ultima occasione Di catturare Sabaton Stai tranquilla Maracca Usa i teletrasportatori E raggiungici qui Il prima possibile La puttana Sari a me Ripiegate sull'ingresso Tenete il fronte a tutti i costi Per la tollo Guardiana Ora che le linee astrali sono attive Le forze di XIV Arat Si riversano dal piano ascendente Ci stanno soverchiando Sfonda le linee dell'alveare Minchia è bello Ben interessante Addovinare chi lo dice Minchia siamo cattivi qua eh Siamo belli Belli In guerra Incalliti Ti capito te La miggera Dobbiamo proprio Cercare che non arrivi Nessuno a salvare la miggera Va 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 Oh Orca 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 Come l'orco Guardiana Unisci Il rituale sta per cominciare Il rituale Salve tesoro Qualche dubbio? Il dubbio è uno strumento utile Ma a doppio taglio Non lasciarti svilare Che bisogna essere così stupidi? Lascialo in pace e attieniti alle tue promesse O lascerò che ti trascini nelle fauci di XIV Arat Poi divorerebbe anche te Perché dobbiamo continuare a minacciarci a vicenda? Chiarisco soltanto la mia posizione È il momento Elia Jari Austin E Savaton Siamo sorelle di circostanza Unite dal fato Apriamo i legami reciproci Diventiamo una Cacciamo il parassita dal nostro consesso Questo momento non è altro che l'accendersi di una scintilla Ne nascerà un incendio e brucerà molto a lungo Siate pronte Consistenti forze di XIV Arat Convergono sulla nostra posizione Le regine vanno protette Non passerà nessuno Le forze di XIV Arat Convergono sulla tua posizione Difendi la regina Senta minchia Senta minchia Ah è fatta apposta sta roba Capito te? Che roba Che situazione Oh mio dio Senti che ci tiene tutti sotto la sua bolla Grande sente Una bestia Sto tizio E quindi No Madonna Quanto è che mi servono più luci possibili Immaginabili Ok Situazione molto interessante Il tempo stringe Sento che mia sorella Basta per raggiungerti La tua famiglia è tenace Se non altro Non più della tua Mio fratello ha patito anni di sofferenze Sulla strada che tu gli hai fatto percorrere Finalmente giustizia sarà fatta Che questa sia la fine Sulla strada che ci sono No Grazie Non so perché ma lo sapevo che sarebbe morto Osiride Lo sapevo Cazzo se me lo sentivo che sarebbe morto Osiride I piani sono banderuole Due che osservano gli stessi eventi Possono predire esiti del tutto diversi Sono stata battuta in astuzia E Savaton mi è sfuggita Ero certa che questa strada, queste azioni fossero definitive Ma il cambiamento è uno sforzo prolungato Richiede l'esercizio di una pressione costante Capita di retrocedere Non perdere di vista la vetta nell'ascesa Le mie tecnidi hanno verificato l'identità di Osiride Quando Saint-14 lo ha riportato alla torre Savaton ha mantenuto la parola E non è rimasta illesa Ho il suo verme Potrà fornire molte informazioni Ne sono certa La maledizione della città sognante si può ancora spezzare Ora vai a casa guardiana Preparati per ciò che sarà Interessante come è finita la situazione Molto come precipitate nell'oblio più totale Assurdo Quindi adesso qua in fondo non c'è più lei Immagino Vediamo cosa ci dice Tutti qua Tutti qua Porca loca Osiride è vivo Grazie amica mia Savaton Ha cercato di seppellirlo Di usarlo come merce di scambio Indossava il suo volto E parlava con la sua voce Ma le parole Non erano sue Non credevo che la meggera regina Avrebbe mantenuto la parola Io Tenevo di non rivederlo mai più Immerso in un sonno profondo Senza la sua luce È difficile dire Se si rimetterà Ma ora è in salvo Mi serve tempo guardiana Veglierò su Osiride E quando aprirà gli occhi Voglio che veda il mio volto Per primo E potrei dirgli per scherzo Che ora siamo pari Savatuna ha molti nemici Ma non ha mai dovuto affrontare Saint XIV La troveremo E questa volta Sarà lei A finire Sepolta Ok Ritratto quello che ho detto Sembrava Senti che Cioè Sembrava che era morto Invece no Ok Non è morto Allora cosa cazzo portava In cora Fra le braccia Sembrava che era morto Osiride Perché aveva degli abbinamenti Di Osiride Con un pezzo del video Che hanno fatto vedere E Quindi niente Allora Osiride Non sono profondo Vedremo 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 Molto Molto interessante Questa situazione Che cosa è successo È successo Samadun Secondo le tecniche Ha lanciato Un incantesimo Di contingenza Quando il cristallo Si è infranto Ha scambiato Se stessa Con un'altra creatura Segnata dalla medesima Runa dell'Aldeare Osiride È vivo Sì Debolissimo Ma vivo Le tecniche Hanno confermato La sua identità È Osiride Niente trucchi Qualche idea Su dove sia Sabatun adesso Purtroppo No Potrebbe essere ovunque Se non altro Una cosa L'abbiamo E sarebbe Abbiamo Osiride Per certi versi Sabatun Ha mantenuto la parola Alla lettera Vedrò di ringraziarla A dovere Ancora Vedrò di ringraziarla A dovere Giù da sta risposta Vedrò di ringraziarla Vedrò di ringraziarla Vedrò di ringraziounty Vedrò di ringrazi claims Vedrò di ringrazi rijai